Domenica 22 settembre, buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, bentrovati qui sul canale, è il giorno dopo Juventus-Napoli e non possiamo ovviamente non analizzare il caso, il problema, un grande problema che affligge la Juventus in questo momento, il problema si chiama Dujan Vlahovic, ne avevo già parlato non più tardi di un paio di settimane fa, non tutti erano d'accordo, qualche d'uno mi ha anche attaccato sostenendo che non si possono sollevare situazioni così tanto perché non ce n'è bisogno, io credo che quando parlo, quando analizzo, quando esprimo un mio pensiero lo faccio a ragion veduta, poi chiaramente il campo è sempre il giudice supremo, ti può smentire il giorno dopo oppure può confermare quelle che erano purtroppo delle sensazioni ben evidenti. Prima di sviluppare il tutto, mi raccomando, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, azionate la campanella notifica e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando possa essere stata di vostra compagnia. Dunque, il cambio al minuto 45, 46 per l'esattezza perché c'è stato un minuto di recupero nel primo tempo e quindi il non rientro dagli spogliatoi di Dujan Vlahovic non è stata una scelta condizionata da situazioni fisiche, ma è stata una chiara scelta tecnica da parte di Tiago Motta e qui credo che le riflessioni che dobbiamo affrontare, esprimere, vadano in più direzioni. Considerando il Tiago Motta di Bologna, la tipologia di attaccante per il suo gioco non corrisponde assolutamente all'identikit di Dujan Vlahovic e questo è il primo punto che va sottolineato e che dobbiamo analizzare perché bisogna capire se Tiago Motta realmente ha intenzione di lavorare e l'auspicio ovviamente è di sì perché poi c'è un grande secondo problema, l'ingaggio di Dujan Vlahovic, il costo di Dujan Vlahovic per la Juve non ci si può permettere di ripetere un'operazione similchiesa, non ci si può permettere di svalutare quello che è un patrimonio perché è vero, è in un tunnel piuttosto preoccupante, non segna da quattro gare, ma non è il non segnare da quattro gare che deve così far accendere la lampadina, perché quando vi ho parlato di problema per Dujan non è tanto il fatto che non segni, ma è un po' a carattere generale e io credo che il grande problema, il grande limite che affligge questo ragazzo non stia né nella condizione fisica né nelle qualità tecniche che pur vanno migliorate abbondantemente ma credo che stia qui. Il problema grasso di Dujan, secondo il mio punto di vista, è un problema di mentalità di forza mentale, più che di mentalità. Il ragazzo è labile, va detto, io perlomeno mi sono fatto questa idea labile nel senso che è troppo debole di fronte alle problematiche cioè non è quel giocatore che vuole ergersi ad essere, cioè non può essere lui il leader della Juventus perché mentalmente è un giocatore troppo fragile. È un giocatore che nel momento in cui sovvengono delle difficoltà è il primo a sparire e non sono i 16 gol della passata stagione, i 15, i 20, i 18 che debbono annacquare un giudizio. Perché sì, è importante andare in doppia cifra per un attaccante ci mancherebbe, però bisogna anche capire poi come vengono distribuiti questi gol perché il fatto che oggi, dopo sei gare ufficiali tra campionato e coppa, Dujan abbia due gol non è tanto i due gol che ha messo a segno che possono essere pochi in rapporto alle partite giocate il problema di Dujan è che molto spesso, troppo, sparisce nelle partite che contano cioè il grande attaccante, il grande giocatore è colui il quale ti segna nei momenti decisivi Tiago Motta, per il suo Bologna, aveva Zirkzee, fece sì che Arnautovic che era precedentemente la punta di diamante dell'attacco rosso-blu fosse ceduto per dare spazio a Zirkzee che aveva caratteristiche completamente diverse ma che evidentemente era molto più funzionale per la tipologia di gioco che tende a sviluppare però attenzione, perché Dujan il problema era a Legri oggi il problema è Motta e va detto, le occasioni che vengono create da parte della Juve sono veramente troppo poche quando si trova di fronte a formazioni che hanno una difesa posizionale, streno, attenta non lasciano spazi, non riesce a creare occasioni la Juve quindi un problema c'è non solo nell'attaccante e nel finalizzatore, c'è anche a Monte ma qui diciamo che può essere risolto conoscendosi, sviluppando l'idea di gioco di Tiago Motta è tutto un concetto che è cambiato negli ultimi due mesi e quindi ci vuole tempo, bisogna dargli tempo il problema, venendo invece al finalizzatore a Dujan Blachowicz è che anche quando si sono prospettate quelle poche occasioni le ha fallite clamorosamente segno di una poca tranquillità di una fragilità mentale di cui vi parlavo che non possiamo non considerare ma il problema grosso è che è un giocatore che ha un ingaggio spropositato oggi guadagnerà 10, il prossimo anno ne guadagnerà 12 a stagione e se la Juve ha intenzione realmente di eventualmente cedere Dujan perché vuole alleggerire il monte in gaggi perché ha deciso di puntare su una tipologia di attaccante diverso beh, sarà bene che si lavori affinché il ragazzo torni ad essere quel killer instinct quel killer dare di rigore e con quel killer instinct davvero bomber perché diversamente non avrà mercato e sarà un grave, grosso problema per la Juve ma non corriamo troppo oltre però bisogna analizzare che in questo momento non si può far finta che alla Juve non ci sia un grosso problema e il grosso problema si raffigura appunto nel nome di Dujan Blachowicz che viene sostituito al 45esimo con un giocatore che di attaccante ha giusto un po' così la collocazione ma è un esterno che poi in Francia ha spesso e volentieri giocato da terzino e che ieri è stato gettato nella mischia da centravanti, diciamo da falso nuove da centravanti senza punti di riferimento io tra l'altro mi aspettavo, sono sincero, che nel momento in cui c'è stata quella sostituzione UEA sarebbe stato inserito nel suo out di destra con Nico Gonzalez che avrebbe fatto il falso nuove così non è stato ci ha pensato Timothy UEA a ricoprire quel ruolo ma il risultato poi è cambiato veramente di poco la Juve fatica a costruire contro squadre ben organizzate quindi bisogna lavorare senza ombre di dubbio di squadra senza ombre di dubbio Tiago Motta dovrà trovare soluzioni a questo problema ma il problema grosso a mio modo di vedere ne avevo parlato due settimane fa e ribadisco qualche d'uno non l'ha presa bene perché Vlachovic è comunque un giocatore fortissimo ma attenzione perché io Dusan l'ho sempre difeso io non sono per partito preso colui quale da quando è arrivato alla Juve come in tanti invece fanno e ho letto anche qui sulla community sotto i miei contenuti lo definiscono scarso perché tecnicamente ha dei grandi limiti certamente non è l'attaccante che fa reparto da solo come lo è ad esempio Lukaku però attenzione perché anche ieri abbiamo avuto la dimostrazione di come Lukaku che per molti è ritenuto superiore a Dusan Vlachovic perché è un attaccante che fa gol è un attaccante che fa reparto da solo ieri è stato letteralmente cancellato dalla partita da una grande fase difensiva da un grande difesa come quella che è stata esercitata su di lui da Bremer e da Kalulu attenzione a Kalulu Kalulu è come ho avuto modo di scrivere nelle mie gran pagelle la vera rivelazione di questo inizio di stagione tra i nuovi acquisti è un giocatore che veramente sorrido se penso che in tanti hanno criticato senza aver aspettato di vederlo giocare perché Kalulu probabilmente in tanti lo si ricordano della passata stagione quando giocò pochissimo perché è spesso infortunato ma si dimenticano invece della bella stagione che fece al Milan quella prima e io ho avuto modo di parlare con qualche d'uno che segue il Milan qualche amico che segue il Milan profondamente perché è molto tifoso e lo segue assiduamente così come io seguo la Juventus e mi ha detto che secondo lui se Kalulu torna a quello di due stagioni fa la Juve ha fatto un super colpo un regalo clamoroso del Milan che si è preso Emerson Royale di cui in tanti nutrono dubbi ma anche per lui attendiamo o meglio si attenda a dare dei giudizi quello che conta è che la Juve ha preso un giocatore che ha veramente delle qualità se sta bene lo ha dimostrato ieri per me questo è veramente un signor acquisto ma venendo al problema della Juve cioè a Dusan Blachowicz io credo che sia fondamentale lavorare affinché il ragazzo possa essere recuperato ma il problema grosso di Dusan ripeto non è tanto nei limiti tecnici che pure ci sono perché non è un attaccante che fa reparto da solo non è il tipico attaccante a cui dai palla la protegge e fa salire la squadra ha delle grosse difficoltà nella protezione della palla quelle che invece non ha ad esempio Lukaku che pure ieri è stato cancellato però bisogna lavorare per migliorarlo tecnicamente ma soprattutto sulla testa sulla sua fragilità mentale perché lo si sente parlare lo si lese magari sui social lo si vede nel riscaldamento sembra voglia essere un leader di questa Juve ma per poter essere leader non deve esserci l'apparenza non devono esserci le parole buttate lì ci deve essere un atteggiamento di forza mentale sul campo che anche nei momenti di difficoltà quelli che lui sta attraversando in questo momento dimostrino che questo è un grande attaccante per essere un grande attaccante bisogna essere soprattutto forti di testa e allora qui bisogna lavorare ditemi la vostra ci sediamo presto come sempre fino alla fine ciao